Welles, il bacillo rubato E poi questo, disse il batteriologo, introducendo un vetrino al microscopio e un preparato del celebre bacillo virgola, il bacillo del colera. L'uomo, dal viso smorto, mise l'occhio al microscopio. Evidentemente non era pratico di quel genere di cose, e si copriva l'occhio libero con la mano bianca e molle. — Vedo ben poco, disse. — Regoli questa vita, disse il batteriologo. Forse per lei il microscopio non risulta a fuoco. La vista presenta sempre differenze, appena una frazione di giro da una parte o dall'altra. — Oh! — Adesso vedo, disse il visitatore. Non c'è poi moltissimo da vedere. Striscioline e frammenti d'un color rosa. Eppure queste minuscole particelle, quasi atomi, potrebbero moltiplicarsi e devastare una grande città. — Meraviglioso! Si rimise ritto e, tolto dal microscopio il vetrino, lo tenne in mano verso la finestra. — Quasi non si vede, disse osservando il preparato di laboratorio. Esitò. — Questi sono... — Vivi! — Sono pericolosi adesso? — Questi no, sono stati messi nella tintura e uccisi, disse il batteriologo. — Da parte mia vorrei che potessimo ucciderli e metterli in tintura fino all'ultimo, in tutto l'universo. — Immagino, disse l'uomo cereo, con un sorriso appena accennato, che voi altri analisti vi guardiate bene dal tenere questa roba allo stadio vivente, attivo. — Al contrario, disse il batteriologo, non possiamo farne a meno. Qui, ad esempio, è attraversato il laboratorio, prese, tra varie altre, una provetta sigillata. — Qui è vivo. Questa è una cultura dei veri e propri batteri della malattia. Esitò. — Colera in bottiglia, per così dire. — Un breve lampo di soddisfazione, affiorò per un attimo sul volto dello smorto. — Significa avere in proprio possesso una cosa mortale, disse, divorando con gli occhi la provetta. Il batteriologo considerò il piacere morboso, che traspariva dall'espressione del suo ospite. Quell'uomo che era venuto a trovarlo quel pomeriggio con una lettera di presentazione da parte di un suo vecchio amico, lo interessava proprio per il contrasto dei loro temperamenti. I capelli neri, lunghi e lisci, e gli occhi grigi e fondi, l'espressione sovreccitata, i modi nervosi, l'attenzione incostante ma intensa del visitatore, erano un po' di novità, e gli procuravano un cambiamento rispetto alle riflessioni flemmatiche, solite ai ricercatori scientifici con i quali egli aveva generalmente rapporti. Fu naturale, forse, che disponendo di un ascoltatore così impressionato, dalla parte mortale dell'argomento, egli prendesse in esame l'aspetto più sensazionale della questione. Tenne in mano la provetta con aria pensosa. — Sì, qua dentro è imprigionata un'epidemia. Basta spezzare una piccola provetta come questa in un impianto per la distribuzione di acqua potabile. Basta dire a queste minuscole particelle di vita, tanto minuscole che solo per vederle con tutta la potenza di un microscopio, occorre la tintura, e di cui non si ha modo di sentire né l'odore né il sapore. Basta dir loro, andate, crescete e moltiplicatevi, riempite i serbatoi dell'acqua, e la morte, misteriosa e inafferrabile, una morte rapida e terribile, dolorosa e degradante, si scatenerebbe su questa città, vagolando qua e là in cerca di vittime. Strapperebbe in un posto il marito alla moglie, in un altro il figlio alla madre, qua l'uomo di stato alle sue incombenze, là il lavoratore ai suoi guai. Si espanderebbe per le condutture idriche, strisciando lungo le strade, colpendo ora questa, ora quella casa, ove non si fa bollire l'acqua da bere, sgusciando nei pozzi dei fabbricati d'acque minerali, finendo nell'insalata quando viene risciacquata e stando acquattata nei gelati. Aspetterebbe con pazienza di farsi bere ai cavalli e agli abbevelatoi e dai fanciulli ignari alle fontanelle pubbliche. Affonderebbe nel suolo per riapparire nelle sorgenti, nei pozzi e in mille posti imprevisti. Basta dare il via al morbo nelle condutture per l'acqua potabile e prima che noi lo si possa circoscrivere, avrà già decimato la metropoli. Si interruppe di colpo, glielo avevano detto, che aveva un debole per la retorica. Ma qui è al sicuro, sa, completamente al sicuro. Lo smorto annuì, gli brillavano gli occhi, si schiarì la voce. Quegli anarchici, quei mascalzoni, disse, sono dei begli imbecilli, dei deficienti, a ricorrere alle bombe quando potrebbero metter le mani su una cosa del genere. Ci udì grattare un po' all'uscio, appena un colpetto con le unghie. Il batteriologo andò ad aprire. Un attimo solo, caro, disfigliò sua moglie. Quando rientrò nel laboratorio, l'ospite stava consultando l'orologio. Non mi ero accorto di averle portato via un'ora buona, disse. Le quattro meno dodici minuti. Me ne sarei dovuto andare alle tre e mezzo. Mi ha fatto vedere cose davvero troppo interessanti. No, assolutamente, non posso fermarmi un secondo di più. Ho un appuntamento alle quattro. Uscì da quella stanza rinnovando i suoi ringraziamenti al batteriologo, il quale lo accompagnò fino alla porta di casa e poi se ne tornò, meditabondo, lungo il corridoio, fino al laboratorio. Stava riflettendo sulla scendenza etnica dell'uomo venuto a fargli visita. Certamente non era di tipo teutonico, né di quello latino comune. Comunque un soggetto patologico, temo, si disse il batteriologo. Con quale bramosia guardava quelle colture di microbi? Un pensiero inquietante lo colpì. Si volse verso il banco, accanto al bagno di vapore, poi si diresse molto rapidamente al suo scrittoio. Si frugò frettolosamente nelle tasche e si precipitò all'uscio. Potrei averla messa sulla tavola del vestibolo, si disse. Minni, urlò con voce rauca, dall'atrio. Sì, caro, rispose una voce dalle profondità della casa. Quando ti ho parlato un momento fa, cara, avevo qualcosa in mano? Silenzio. E poi? Niente, caro, perché ricordo che... Inferno, dannazione! Esclamò il batteriologo. Incotantemente corsa alla porta di casa e giù per i gradini d'ingresso, fino alla strada. Nell'udire la porta sbattuta con violenza, Minni corse, tutta allarmata, alla finestra. In fondo alla via un uomo magro stava salendo in una vettura di piazza. Il batteriologo senza cappello, calzato con le sue pantofole in punto a croce, correva gesticolando verso quel gruppo. Perse una pantofola, ma non se ne curò. E' impazzito, si disse Minni, colpa di quella sua orribile scienza. E aprì i vetri per chiamarlo. L'uomo magro, guardandosi improvvisamente attorno, parve colpito dalla stessa impressione di un disturbo mentale. Additò in fretta il batteriologo, disse qualcosa al vetturino. La ribalta anteriore della carrozza sbatté, ricudendosi. La frusta schioccò, i zoccoli dei cavalli risuonarono sul selciato e in un attimo vettura e batteriologo gettato all'inseguimento furono lontani nella prospettiva della strada e all'angolo svoltarono. Per un momento Minni rimase a sporgersi dal davanzale, poi si ritirò dalla finestra. Era libita. Che eccentrico, si sa, pensò. Ma correre in giro per Londra e al culmine della stagione mondana, per di più senza scarpe. Ebbe una bella idea. Si mise tutta in fretta la cuffia in testa, afferrò le scarpe del marito, passò nel vestibolo. Prese dalla tacapanni il cappello e un soprabito leggero. Comparve sul pianerottolo della porta d'ingresso e chiamò una vettura che molto tempestivamente passava pian piano nei paraggi. Risalga la strada e giri in Havelock Crescent e vediamo se si riesce a trovare un signore che se ne va di corsa in giacca da casa di velluto a coste e senza cappello. Velluto a coste, signora? E senza cappello? Benissimo, signora. E il vetturino fece schioccare subito la frusta, nel modo più naturale, come se tutti i giorni della sua vita non facesse altro che portare gente a quell'indirizzo. Pochi minuti dopo, il gruppetto di sfaccendati e vetturini di piazza che si raduna sotto la pensilina di Haverstock Hill rimase colpito dal passaggio di una carrozza con un ronzino rossiccio che andava di furia. La guardarono passare in silenzio e poi, mentre si allontanava, quello è Harry Hicks. Che cosa gli è preso? Dice il tarchiato signore, noto come il buon Tootle. Usa la frusta? Un c'è che dire, commentò il mozzo di stall. Oilà, disse il povero buon Tommy Byles. Ecco che arriva un altro bel matto. Mi venga un accidente, se non è così. È il buon George, disse il vecchio Tootle, e porta un matto, proprio come dici. Poco si aggrappa e sporge fuori dalla carrozza. Chissà se dalla cazza a Harry Hicks. Il gruppo intorno alla pensilina dei cocchieri si animò. Tutti in coro. Dalli, George! È una corsa. Dai che li acchiappi! Frusta! Corre bene, disse il mozzo di stall. Devo avere le traveggole, esclamò il buon Tootle. Ehi, fra un attimo ce l'ho. Ne arriva un'altra. Ma, ma che? Tutti i vettorini di Hampstead sono ammattiti stamane. È una femmina stavolta, disse il mozzo di stall. Una che insegue lui, disse il buon Tootle. Di solito è il contrario. Che cos'ha in mano quella? Parrebbe un cappello a cilindro. Che spasso! Che spasso! Do il vecchio George tre a uno, disse il mozzo di stall. Avanti l'altro. Minnie passò tra un vero uragano di acclamazioni. Ciò non le piacque affatto, ma pensò che doveva fare il suo dovere e turbinò giù per Haverstock Hill e Cadmantown Street senza staccare gli occhi dall'animatissima veduta posteriore del vecchio George che nella sua vettura le portava via in modo così incomprensibile il marito transfuga. L'occupante della prima carrozza stava rinnicchiato in un angolo, tenendo le braccia bene incrociate e stringendo in mano la piccola provetta che conteneva quelle immense possibilità di distruzione. Era in uno stato d'animo in cui paura ed esultanza si mescolavano stranamente. Temeva in primo luogo che lo acchiappassero prima che avesse potuto attuare il suo intento, ma dietro a ciò stava in un timore più vago però più ampio dettato dal carattere spaventoso del suo crimine. Comunque l'esultanza superava di gran lunga il timore. Nessun anarchico prima di lui aveva mai fatto nulla che valesse neanche alla lontana quel progetto. Ravacol, Violent tutti quei celebri personaggi dei quali aveva invidiato la fama rimpicciolivano fino ad essere insignificanti accanto a lui. Bastava che si procurasse un accesso all'impianto idrico spettando la provetta in uno dei serbatoi. Com'era stato brillante il suo piano di introdursi nel laboratorio per mezzo di una falsa lettera di presentazione. E in che modo brillante aveva ferrato l'occasione. Finalmente il mondo avrebbe sentito parlare di lui. Tutta quella gente che lo aveva erriso, che non lo aveva considerato, che gli aveva preferito degli altri e che aveva giudicato indesiderabile la sua compagnia, sarebbe finalmente stata costretta a fare attenzione a lui. Morte, morte, morte! L'avevano sempre trattato come un individuo irrilevante. Glielo avrebbe insegnato a lui che cosa voglia dire isolare un uomo. Dov'erano adesso? Questa strada gli era nota. Ma naturale. Great St. Andrew Street. Come andava la caccia? Allungò il collo forte della vettura. Il batteriologo era appena cinquanta metri più indietro. Brutto affare. Ora lo avrebbero acchiappato e fermato. Frugò in tasca cercando denaro. Trovò una mezza sovrana. La cacciò a braccio teso attraverso lo sportellino del soffitto sotto il naso del vetturino. Dell'altro, gridò, se non ci facciamo raggiungere. La moneta gli venne strappata di mano. Benissimo, disse il vetturino. La botola si richiuse di schianto e la frusta toccò il fianco lucente del cavallo. La carrozza uscillò e l'anarchico, ancora a metà in piedi sotto la botola, per non perdere l'equilibrio, posò sulla ribalta la mano che conteneva la provetta. Sentì il fragile oggettino infrangersi e la metà spezzata tintinnare sul pavimento della carrozza. E gli ricadde a sedere con un'imprecazione e fissò lugubremente le due o tre goccioline di liquido sulla ribalta. Rabbrividì. Ebbene, immagino che dovrò essere io il primo. Ah! Comunque sarà un martire, è già qualcosa. Però, che morte schifosa! Chissà che si soffre come dicono. Quasi subito un pensiero gli si presentò alla mente ed egli tastò alla cieca tra i suoi piedi. Una goccia era rimasta nel fondo della provetta spezzata ed egli la bevette per maggiore certezza. Era meglio avere la certezza. Così non avrebbe mancato lo scopo, ad ogni modo. Poi pensò ad un tratto che non c'era più motivo di non farsi raggiungere dal batteriologo. In Wellington Street disse al vetturino di fermare e scese. Sul predellino scivolò. Gli girava un po' la testa. Che roba rapida quel velenoso colera. Rinviò di un cenno il vetturino nel nulla, per così dire, e rimase ritto sul marciapiede. Abbraccia concerte, aspettando a pie fermo l'arrivo del batteriologo. Il suo atteggiamento aveva un che di tragico. Il senso della morte imminente gli dava una certa dignità. Accolse il suo inseguitore con una risata di sfida. Vive l'anarchi! Arrivi troppo tardi, amico. L'ho bevuto. Che colera in cammino. Il batteriologo dalla sua carrozza lo guardava con occhi sfavillanti e curiosi attraverso gli occhiali. Bevuto. Un anarchico. Adesso capisco. Stava per aggiungere altro, ma si trattenne. Un sorriso gli alleggiò sulle labbra. Aprì la ribalta della vettura come se volesse scendere. Ma l'anarchico con un drammatico cenno di addio si allontanò a gran passi verso il ponte di Waterloo avendo buona cura di sfiorare con il suo corpo infetto il maggior numero di persone possibile. Il batteriologo era tanto occupato a osservarlo che non diede quasi alcun segno di sorpresa all'apparizione di Minni sul marsapiede con le sue scarpe, il suo cappello e il suo sopravvito. Come sei stata gentile a portarmi le mie cose, disse, e continuò a rimanere perso nella contemplazione della figura sempre più lontana dell'anarchico. Fai bene a salire, disse sempre con lo sguardo fisso. Minni a questo punto finì di convincersi che era matto e si prese la responsabilità di dare lei stessa al vetturino l'indirizzo di casa. Mettermi le scarpe? Senz'altro, cara, disse egli mentre la vettura cominciava a girare nascondendogli alla vista la figura impettita ormai piccolissima in distanza. Poi qualcosa di grottesco gli venne in mente ad un tratto. Rise ma poi commentò una faccenda molto seria tuttavia. Capisci? Quell'uomo che è venuto a casa a trovarmi è un anarchico. No, non svenire altrimenti non posso raccontarti il resto. Io desideravo stupirlo non sapendo che era un anarchico e ho tirato fuori una coltura di quella nuova specie di batteri di cui ti ho parlato quelli che si trovano presenti nelle chiazze blu di varie scimmie e che anzi a mio parere provocano delle chiazze. Come uno sciocco gli dissi che si trattava di colera asiatico ed egli è scappato portandoselo via per avvelenare l'acqua di Londra. E non vi è dubbio che per colpa sua questa nostra civile città ne avrebbe viste di tutti i colori. Ora l'ha ingoiato. Naturalmente non ti so dire che cosa accadrà ma sai quella roba aveva fatto diventare blu il micino e tre cuccioli a chiazze e il passero. Un bel blu brillante. La seccatura è che adesso avrò il fastidio con relativa spesa di prepararne un altro. Infilarmi il soprabito con il caldo che fa oggi perché? Perché potremmo incontrare la signora Jabber? Ma mia cara la signora Jabber non è mica una corrente d'aria? Perché mai dovrà indossare il soprabito quando fa caldo a causa di una signora? Oh sta bene sta bene sta bene e Grazie a tutti